Salve a tutti, qui di Muschievi Parla e vi da il benvenuto a questo video dedicato al Gwent. Io, come forse avete visto un po' di volte nei social, sono un grande appassionato di The Witcher 3 e della saga di The Witcher in generale. Da questa grande passione è conseguita anche la curiosità nei confronti del Gwent, questo gioco di carte che è in fase beta da diversi mesi. È un gioco piuttosto particolare che per gli appassionati di The Witcher, secondo me, rappresenta un unicum perché ci consente di soddisfare diverse curiosità. In questo video, infatti, voglio parlare proprio di 5 motivi per cui bisognerebbe giocare a Gwent, o almeno dargli una possibilità, provarlo, provare a vedere se piace. Una semplice, quindi, classifica dei fatti sul perché il Gwent è un gioco che merita di essere appunto giocato. Vai! Primo motivo, è un gioco che aguzza la mente, nel senso, è un gioco di carte con diverse strategie, è un gioco che quindi richiede diversa concentrazione perché bisogna, ovviamente, avere un minimo di strategia nel programmare le mosse, nel creare i mazzi e, quando si gioca, nello sfruttare le interazioni tra le varie carte. Infatti, è un gioco che premia molto le sinergie tra le varie carte, che premia degli effetti che si combinano, appunto, tra le varie carte, detti in maniera molto semplice. Ovviamente, se vi approcciate al gioco, poi queste cose le scoprirete nel dettaglio. Però, diciamo che, detta proprio così, terra a terra è un gioco che premia la costruzione, quindi, di una strategia, la sua applicazione, e saper rispondere alle mosse dell'avversario, in qualche modo addirittura per vederle. Un gioco, quindi, che aguzza la mente perché ci obbliga a riflettere, a pensare e non essere solo passivi di fronte a quello che abbiamo nello schermo. Secondo motivo, direi un motivo assolutamente fondamentale, è gratuito. Il Gwent, infatti, è un gioco gratis. È ancora in fase beta, ma anche quando uscirà dalla fase beta rimarrà assolutamente gratuito. Uscirà una campagna single player chiamata Thronebreaker, che quella sarà a pagamento, ma se uno non è intenzionato a giocare la campagna, potrà tranquillamente giocare il comparto multiplayer, sia le partite libere che le classificate, le ranked, senza versare un E. Ovviamente c'è possibilità di shoppare qualche forzieri di carte con i soldi veri, ma non è assolutamente obbligatorio, nel senso, i forzieri da cui escono le carte, da cui possono uscire varie carte che ci servono, o se no quelle che non ci servono possono essere scartate, vengono ottenuti completando partite in game. Quindi non sono assolutamente obbligatorie le shoppate. Quindi, titolo gratis, maggior ragione per dargli una possibilità. Terzo motivo. Parliamo di un gioco, ovviamente, in cui la lore di The Witcher è molto, molto presente. Quindi, è un gioco che, per gli appassionati della lore come me, permette di vedere in azione, diciamo, comunque rappresentati alcuni personaggi che magari restano solo nei libri, oppure che comunque fanno una comparsa marginale in altre situazioni. Molta attenzione, poi, si dia messo nel fatto di sfruttare le caratteristiche del personaggio per conferire l'abilità alla carta. Nel senso, la carta riflette magari una caratteristica che ha il personaggio nella saga in modo da non, diciamo, creare uno sfasamento e quindi avere la sensazione che quella carta, ah, questa è la carta, non so, di Dendalion, è proprio idonea a quello che fa Dendalion. Ecco, quindi, giusto per fare un esempio. Come quarta motivazione c'è il comparto artistico. Perché il comparto artistico del Gwent, quindi coloro che curano i disegni e l'illustrazione, è davvero notevole. Gli artwork sono bellissimi, li potete vedere su ArtStation, su DeviantArt, vado ad andare su ArtStation e scrivere Gwent, vedete gran parte delle illustrazioni e potete vedere come sono fatte in maniera maniacale. È davvero un gioco che, dal punto di vista visivo, dell'illustrazione, ha davvero una qualità altissima. Quinto e ultimo motivo, è un gioco che spinge verso la creatività. Nel senso, è ovviamente un gioco di carte, quindi c'è una creatività limitata. Ma nel creare i mazzi, è necessario metterci una buona dose di testa propria. Ovviamente, molti si ispirano alle liste più forti che vengono condivise dai giocatori più bravi. Tuttavia, spesso e volentieri, è divertente anche andare a sperimentare qualcosa di proprio, anche contando magari su un effetto sorpresa, sendoci particolarmente soddisfatti nel caso in cui questo risca ad essere efficace, magari anche contro quei mazzi che risultano i più forti al momento. Quindi, oltre a, come dicevo prima, stimolare il pensiero strategico, stimola anche il pensiero creativo, perché ti dici, devi, tra virgolette, impegnarti a creare magari anche un mazzo che faccia una certa sinergia. Quindi è un gioco che ti ripeto, Arzilla, la mente. Questo è lo scoperto di 5 ragioni per cui bisognerebbe dare una chance al Gwent. Ovviamente, se siete assolutamente avulsi ai giochi di carte, se proprio non vi piacciono, anzi, vi danno fastidio, vi sconsiglio di provarlo, perché non farà per voi. Ma se non avete mai provato i giochi di carte, non avete magari ancora un parere come nel mio caso, non ho mai provato i giochi di carte, vi studiisco di provare il Gwent, dare una chance. Se vi è piaciuto The Witcher, comunque è un gioco che può soddisfare. Poi, in caso, non ci avete speso neanche un euro su questo, il Gwent. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se proverete il Gwent, che vi ricorda disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. PC sia tramite GOG, che è la piattaforma di CD Projekt, sia attraverso Microsoft. Fatemi sapere se deciderete di dare una chance a questo gioco di carte e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale. Ciao a tutti!